musica ma te mi avevi promesso prodotti a chilometro zero il divertimento dello spatash spettacoli tutti gratuiti invece qua non c'è niente tu devi solo avere fiducia nella festa più bella di tutto il VCO voi venite a Montegressese è la patata ci penso alla sagra a node? grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti